Ho collaborato con Giovanni a aprire questa struttura, però lui resta l'unico proprietario. Io gli ho dato una mano a livello logistico a preparare e far arrivare i sponsor ad altri. È una struttura che secondo le prospettive dovrebbe decollare a 360 gradi. Sarà una struttura che darà possibilità a tutti gli appassionati del tiro, di pistole, di arma lunga, carabine, di fucile. Ci sarà imbiandato anche un tiro a percorso caccia e trap che l'utenza serenitana apprezzerà moltissimo e anche non serenitana perché il campo sarà un riferimento di tutta la regione ex regionale. Giovanni è una persona da ammirare per quello che ha fatto, è una persona che secondo le aspettative avrà un grosso successo. Spero che con tutto il cuore un domani diremo che a Ponte Cagnano, Faiano e Giffoni e Vallepiano è nata una delle più belle strutture che ci sia in Italia. Grazie.